Solo perché avevo una squadra coesa dietro di me e con me soprattutto, perché altrimenti non avrei mai accettato. Ho sentito dal momento in cui, appunto, una delusione grandissima, doversi dimettere, io ho iniziato a fare il consigliere comunale a 23 anni, quindi, come dire, a 28 anni sono diventato vice-sinnaco, era al di là delle mie ambizioni di quando ho iniziato a fare, nel mio piccolo, un po' di politica a livello locale. Dover abbandonare un progetto che aveva tutti i presupposti giusti, perché il programma c'era, c'erano anche le persone, però, purtroppo, alcuni nostri compagni di viaggio, soprattutto uno, ha cambiato completamente idea, ha preso il programma, quindi, chi ce lo dice che non lo farà anche adesso? Ha preso il programma, l'ha buttato nel cestino, ho vinto io, questo è il bene della città. C'è già, c'è un articolo sul giornale che io chiedevo un referendum, tanti mesi orsono, forse un anno fa, in questo periodo, chiedevo un referendum, chiedevo una consultazione popolare, ma, visto che va oltre il nostro mandato amministrativo, chiediamo alle persone che cosa ne pensa, perché è normale, sono abituato così a intervenire.